Scusate, perché se possiamo stare un po' tranquilli, chi è questo? Questo qui che sta riprendendo, lei chi è? Sì, sì, no, è bellissimo, chi è lei? Sono uno che sta riprendendo, sì, ma ho capito, no, chi è? Sì, è un camera, ma di che televisione? Allora, per cortesia è pregato di uscire. Bravo! Rai 3! Rai 3! Rai 3! Rai 3! Rai 3! Ma no, 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 no! Rai, perché poi devono essere tre le rai, ne basta uno, due le mettiamo in vendita e una la teniamo senza politici dentro e senza pubblicità. Questa è la riforma che faremo noi. Allora, i paschi, guardate che io ho sempre fatto queste battaglie qua, non le faccio adesso perché c'è il movimento, chi mi conosce lo sa, nei miei spettacoli, vi ricordate quando nei miei spettacoli ridevate, ridevate, poi uscivate e diceva adesso che mi hai fatto ridere come facciamo? Eh? E adesso cosa facciamo? Io facevo così, io parlavo della Parma due anni prima, che succedeva perché il Tg3 il Tg3, il Tg3 poteva dare la notizia, due minuti di dire, guardate non prendetela che è fallita, poteva risparmiare il disastro economico a 30.000 famiglie, ma non era possibile perché i giornali, le televisioni erano sul libro paga di tanzi, io potevo dirlo perché non ero stato comprato e non ero stato comprato perché non mi ha offerto un cazzo, quello li sconto, vedo, io, 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 io ho vinto, ho vinto!